l'uragano isaias è arrivato nello stato americano del north carolina stando a quanto riportato dal national hurricane center la prima località ad essere travolta dal passaggio di isaias all'alba di martedì è stata ocean isle beach convinti che hanno raggiunto velocità di 140 chilometri all'ora e le previsioni non sono per niente buone in queste ore isaias si sta dirigendo verso la virginia con piogge abbondanti ed enormi mareggiate molti residenti cercano di fuggire altrove allerta molto alta su tutta la east coast anche in pennsylvania nello stato di new york fino al quebec in canada